Eder. Mech. Pallister. Il processo a Zakariat Kaui, accusato dell'uccisione della sua ex fidanzata Sofia Castelli nel luglio del 2023 a Cologno Monzese, è iniziato presso la Corte d'Assise del Tribunale di Monza. Il giovane di 23 anni si è presentato all'udienza con un abbigliamento sobrio, ma curato, e il suo avvocato, Bainer Burani. Ha anticipato la richiesta di una perizia per valutare la sua capacità di intendere e di volere. La Corte ha ammesso la costituzione di tutte le parti civili, tra cui la madre e il padre di Sofia, il fratellino, i nonni, gli zii e i cugini. La migliore amica della vittima è l'Associazione Casa delle Donne Maltrattate di Milano. La prossima udienza è prevista per il primo marzo. Secondo l'avvocato Burani, la richiesta di una perizia è necessaria per comprendere lo stato d'animo e la capacità di intendere e volere del suo assistito. Soprattutto in relazione alla contestazione di premeditazione. L'avvocato ha sottolineato l'importanza di comprendere lo stato d'animo di Atkaui in tutta questa vicenda, piuttosto che basarsi solo sulle testimonianze dei presenti. Burani ha anche dichiarato che Atkaui potrebbe fare delle dichiarazioni spontanee nella prossima udienza per chiedere scusa per il suo comportamento. L'avvocato si è mostrato molto dispiaciuto per la situazione. Definendo Atkaui un ragazzo di 23 anni che sta affrontando il peso delle sue azioni e che sta cercando di capire cosa è realmente accaduto. Ha sottolineato che non è un sicario, ma una persona giovane che sta cercando di fare i conti con la realtà dei fatti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eder Metallica Eder Metallica